Buonasera, complimenti per il gol, un'altra prestazione importante la sua e un altro gol che frutta punti pesanti. Sì, sono contento per il gol, sono anche contento per la prestazione di tutta la squadra, abbiamo giocato penso bene, era importante vincere oggi. Nel secondo tempo hai avuto alcune occasioni dove potevi scaricare la palla ai compagni e hai preferito incaponirti in giocati individuali e al fine partita Dionisi che ti ha detto? Ti ha sgridato? Sì, potevo giocare un po' meglio l'occasione, l'ho provato da solo, c'era la possibilità di giocare a due. Salve, da ex ti ha fatto una certa impressione, segnala Tardini oppure ormai un capitolo dimenticato? Sì, è comunque un'impressione grande perché anche se ho giocato poco qui, era comunque un bel ricordo, sì mi ha fatto piacere. Altre domande? Altre domande? Sì, è vero che il Palma è una grande squadra, anche è un giocatore importante. Noi sapevamo che arriviamo qui, era una partita tosta, però abbiamo preparato penso bene la partita e è andato bene. Solo una seconda domanda, ai play-off a voi qual è l'obiettivo e che ambizioni vi date? Noi, come il mister dice sempre, giochiamo ogni partita per vincere, poi il play-off non è ancora sicuro però proviamo con queste ultime partite. Grazie. Grazie. Grazie.